Musica Ok ragazzi purtroppo c'è stato un bug con la registrazione che mi ha tagliato i primi due minuti di video Comunque ve li riassumo molto velocemente Oltre all'intro ho detto che avevo messo in squadra Milf che era morto Potter nella votazione E avevo battuto un'allenatrice Purtroppo la registrazione è andata totalmente e dico totalmente a sfancularsi E quindi nulla non so cosa dirvi Godetevi il video Ok ragazzi rieccoci qua Ci ho messo pure un po' perché effettivamente mi si è poi sminchiato tutto il programma Comunque qua abbiamo subito un'acqua fresca giustamente che ovviamente è nascostissima perché nessuno vede le bottiglie Ah mi sfidi tanghela Ok riniziano subito a tornare i pokemon che vediamo l'allenatore prima Cioè raga praticamente ha subito l'influenza di Light Platinum Ah tra l'altro si A volte mi state chiedendo in questo periodo quando riporterò Light Platinum la seconda parte Dovete sapere che Allora innanzitutto che in questa zona qua non la faccio perché non ha una sua utilità Però una cattura effettivamente alla torre allenatori qua potrei farcela no? Questa qua cioè è considerata torre degli allenatori perché se si allora fatemi vedere Sì tecnicamente sì il punto è che si troveranno pokemon sì Uh altaria Altaria è un buon pokemon raga mi piace Ok perfetto doppio agono ti butta giù Fammone un altro Ottimo perfetto adesso se non è Io sono un coglione Vabbè raga tanto è fine serie non è importante No dicevo ragazzi eh devo recuperare la ROM in pratica perché ho riscontrato dei bug Devo cercare di rimetterla a posto spero di riuscire a farlo in modo tale che in futuro vi riuscirò a portare Diciamo anche la seconda parte di quella serie No 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 grazie grazie rifiuto l'offerta e vado avanti Ok ragazzi andiamo verso il canyon Ragazzi in questa zona in questa isola in particolare si trovano le rovine florabeto Che sono il luogo in cui vivono gli unknown in questa generazione Ovviamente non saranno molto utili però ci faremo la nostra cattura E dovrebbero esserci anche degli allenatori che affronteremo Dunque questo sarà in pratica l'episodio in cui faremo finiremo si spera almeno L'isola ehm l'isola settimisola E di conseguenza nel prossimo sconfiggeremo definitivamente team rocket Sarà un episodio l'ultimo che durerà molto di meno per ragioni di tempo E poi la serie concluderà Ho già in mente cosa portarvi tranquilli Quindi se volete fare qualche suggerimento sapete sempre che è ben accetto Però io ho già le idee chiare No la cattura mannaggia a me Ok perfetto Non ti voglio Non ti voglio però sono un deficiente cronico Aspettate veramente Hashtag demenza senile Io volevo fuggire ve lo giuro Allora fermi andiamo a prendere delle ultra ball perché altrimenti così non si va avanti 25 dovrebbero bastare a meno che io non trovi Deoxys o pokemon del genere Non so perché ho pensato proprio a Deoxys Raggiungibili senza eventi Inoltre ragazzi all'interno dei codici di gioco ci sono anche altre isole non utilizzate Cioè ci sono i nomi perlomeno di altre isole non mai create diciamo non ci sono neanche negli script del gioco Quindi sono irraggiungibili Raggiungibili però sembra quasi che l'intento dei creatori fosse proprio quello di farmi bestemmiare Di farmi bestemmiare no Fosse quello appunto di mettere più isole Poi evidentemente per qualche motivo che non conosciamo non l'hanno fatto ma questi sono dettagli Allora noi avevamo quante iperpozioni 4 giusto speriamo che bastino Tra l'altro dovrebbe essere qua che c'è tipo una casa con un tipo che balla con chance E si non mi sono drogato succede veramente Bellissimo questo pokemon davvero Nincada è uno dei miei pokemon preferiti lo giuro Oddio Luvdisk non gli ho neanche dato il soprannome raga per quanto mi interessi di sto pokemon Ti prego muori grazie Ok forza affrontiamo anche questa qua raga gli allenatori sapete che li faccio abbastanza velocemente Ma rip giù perfetto Crep madonna raga la potenza di questi allenatori questo oggi è allucinante Stanno facendo tutti schifo Mega pugno con i suoi pugni rinomati diciamo una prelibatezza tra l'altro Perché devo sempre utilizzare terremoto anche quando non vorrei utilizzarlo mannaggia me Tra l'altro si il repellente non è Ok voi due Gentilmente non in pubblico queste cose Non si fanno queste cose in pubblico Non li ha a A consumare il proprio rapporto E nulla oggi va così con gente che urla a caso dove ero rimasto Ah si dovevo ammazzare tutti perfetto Seccato dimmi che cubon va giù perfetto ho fatto la scelta più sbagliata di sempre Comunque non lo so spero che non ci siano più cose di questo genere in questo episodio Ho già stoppato due volte io spero di non dover sclerare in editing Ok nel frattempo ho battuto a questa copiata Ah no che è tutto già preso Sì perché ci ho messo un po' diciamo a riprendere la registrazione Perché dovevo assicurarmi che la gente giù non urlasse più ovviamente Io mi auguro che non vediate sempre il cursore quando va in mezzo Perché altrimenti accetterai 125.000 dislike Oggi facevo la dislike challenge Vediamo quanti riusciamo a raggiungerne Ovviamente sto scherzando no che poi la gente la prende sul serio Faccio una fine bruttissima Oh 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 è Eccans Oh oh è Eccans Sì chiaro no la classica copia che tutti vorrebbero Allora io non so neanche sinceramente perché abbia fatto Bora Eh sta di fatto che Che Oh oh cazzo Oggi lo lancio su vegano fa malissimo No dicevo sta di fatto che Bora non fa nulla Quindi tipo roccia Ok perfetto Ho appena subito La perdita Veneno a culo fa niente rimani pure lì Ho appena subito la perdita di una delle mie condizioni fondamentali della vita Convinzioni non condizioni scusatemi Ossia Ero convinto che il tipo roccia fosse super efficace Cioè che il tipo No è morto potter mannaggia Cioè è morto me l'avete eliminato Oddio mi va via la voce Ok insegniamo forza milf non è un problema Togliamo rimbalzo Anzi doppio ago No dicevo ero abbastanza convinto che il ghiaccio fosse super efficace Sul come si chiama Sul sulla roccia Evidentemente non è così Ok La vita è abbastanza una merda Fermi ho sbagliato sicuramente Ho sbagliato sicuramente Eh sì perché devo portare avanti quelli là Non ce la farò Ok fermi Allora usciamo e rientriamo Sarà tutto così io ve lo dico Allora Allora no fermi devo ragionare Perché altrimenti qua sfaso Uno due Ok E qua ci siamo Perfetto No porco Allora Io sinceramente ricordo che da piccolo ci misi secoli Però mi sembra Più facile del previsto sinceramente No Fermi 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 qua sto sbagliando tutto Ok Ok Perfetto E a regola Ok E' relativamente semplice Pensavo fosse più difficile Io me lo ricordavo molto più difficile Ok perfetto Ragazzi se non avessimo fatto questo indovinello Chiamalo indovinello Levati Se non avessimo fatto Dicevo questo indovinello Non saremmo potuti andare a catturare nessun unknown E quindi raga E' assolutamente fondamentale Spaccaroccia Si figuriamoci se ho spaccaroccia Vabbè raga non la userò mai tanto spaccaroccia Picciu Perfetto L'utilità fatta a pokemon Muori minchia Ho sprecato l'ultimo terremoto che avevo per un picciu Mi faccio schifo Forza quanto ti toglie Fermi Fermi Non mi è piaciuta sta cosa Non mi è piaciuta per niente Ma andiamo già a un frogra Un bora così Non vorrei A tradimento Non vorrei mai che mi facesse troppo Registeel Perfetto Non so come attaccarlo Surf Maledizione Ciao è stato un piacere Perfetto Registeel a casa Ottimo Un altro leggendario da annoverare alla lista Bakkalgan Sono veramente l'uomo più felice della terra in questo momento Non c'è niente di male ad allenarsi in solitudine Ma c'è chi preferisce cercare di raggiungere la perfezione con un compagno Bruno stesso si è allenato per parecchio tempo con un amico Un certo Brawly Sapete che io non ricordo chi sia sto brawly Non vorrei sperare una puttanata Probabilmente lo sto per fare Ma Potrebbe essere E nel frattempo switch o milf Perché altrimenti sto coso non lo butto giù C'è una mosso di erba Solo al raggio Aspettate Io c'avevo un po' comunque una mosso di tipo erba Ok perfetto Brawly Potrebbe essere il maestro del doio karate C'è Ora non ne sono per nulla sicuro Però potrebbe essere Nel frattempo Forrethress lancia fiamme e va a casa Ottimo Allora il prossimo ci avrà Regi stile a sto punto Se la mettiamo così Perché Regirock Scusatemi Perché Altrimenti oggi raga non connetto Sto sbagliando troppe cose Come il video Come il video fatto dopo Capodanno Che l'avevo registrato con i post Mi avevo sparato tante di quelle cagate Da fare invidia Salvini Ecco quando dicevo Che non avrei dovuto utilizzare L'ultimo terremoto Contro un picciu schifoso Intendevo proprio questo Forza Restringe la mira Io ti restringo La famiglia La famiglia ti restringo Allora fatemi ragionare Proviamo ad andare vega No Allora calma Oltraggio Ok perfetto Minchia gli ho fatto Gli ho fatto malissimo Ha proprio visto il divino Ha visto E poi è morto Ok perfetto Affrontiamo anche questa qui Che io mi ricordo benissimo Che tu hai una mossa Che a me non piace per nulla Ossia bora Anche tripletta però Abbastanza strozza Allora surf Clefable va quasi giù Aspettate Ah ok perfetto Ho tentennato Perché noi abbiamo la roccia di rai Infatti raga non capivo Terremoto Aia Solar raggio Marshtomp a casa Perfetto Caspita Se fosse stato uno swampert Avrebbe potuto farmi molto di più Con quel terremoto Effettivamente È stato abbastanza rischioso Ok perfetto Quella poco bollino La potrò ottenere Senza spaccaroccia E andrà a finire Che non la otterrò Che peccato Allora Fermi Tra l'altro sapete che sto pensando Che Secondo me ci stiamo Nei tempi Passo prima Ricarica totale No sei proprio un infame Però devi morire male Perfetto Ci siamo capiti Raichu E Oddio Milfo mi sta preoccupando Sinceramente Perché potrebbe morire malissimo Proviamo un extra rapido Così Ignorante Quasi Quasi Tornado Non mi fa nulla Extra rapido E merda Lo manda a casa Ritorna alla battaglia Ritorna alla gloria Ritorna Al magifuoco Ignorante Ok L'ho bruciato Aia zampillo Allora calma Tanto non dovrebbe farmi male Perfetto Extra rapido E a casa ragazzi Ottimo così Magmar Allora E mandiamo John Frog Con surf E siamo Coglioni Siamo coglioni Perché evidentemente Se io dico di usare surf E poi uso danza spada C'è un problema di fondo Con la mia persona Falce cannone E a casa pure slow poke Raga Gran pokemon Slow poke Veramente Con falce cannone Gli ho arrostito la coda E me la sono pure magnata Ecco Sì Quando vi parlavo del tipo Che Ballava con Con chance E Ma ha curato La squadra Ma calga Un'altra Perché 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 io Sono Perché io vivo In questo mondo Di baccaghi Magikarp Ok Solle Perché Ma no Un Magikarp Con levitazione Vi prego Fate un meme E' un Magikarp Che fluttua Questo E che fa Il solletico Cioè ma Hai davvero Sprecato Un'iperpozione Su ma Oddio Oddio Non me l'aspettavo Milf Si è un po' Alterata Raga Oh ma Basta farmi preoccupare Così ma Oh Ma raga la droga C'è proprio La pazzia Ma cosa sta succedendo Natureforce Si trasforma in comete Ma ha tolto un fottio Ma si può Allora Slow Boh non lo so Trovate un aggettivo Per questa serie Ok Sta per finire Agro Non è perfetto Io gli devo fare pure Calcio rullo Dai che quasi No No Mi piglia per il culo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma non ci voglio credere Ma mi stai a pigliare Per il culo Ma veramente Ma Mi piglia per il culo Questa serie Mi piglia per il culo C'è Avete visto tutti Cos'è successo L'avete visto tutti C'è morto Charizard E il pokemon Dopo chi era ovviamente Charizard E trovo il dente di drago Boh Non so cosa dire Rovina il florabeto Nel frattempo Allora Qua potenzialmente Potrei fare già Una cattura in mare Ma io sinceramente Vorrei farla dove ci sono Gli unknown Per pura scaramanzia Ok Vediamo chi ci capita Finito l'effetto Il repellente Proprio in tempo Dai e Maintain Maintain Cioè Mi fa Altresì schifo Per non dire altre parole E non ci entrerà mai Perché tra l'altro Uno di quei pokemon Che c'ha un catch rate Alto Alto Senza Cosa ho detto C'ha un catch rate Così alto E non c'entra niente Mi arrivano i messaggi Su whatsapp Senza motivi apparenti Entra Non posso neanche indebolirlo Raga Perché se lo indebolisco Lo shoto Cioè È ovvio Dai Falli Dovevo perdere un episodio A fare sta cosa Dai Eh no Niente da fare Niente da fare Nulla Come va Spero tutto bene La scuola Tutto quanto Insomma Spero che La vostra vita Sia Di gradimento La mia No Devi entrare Niente da fare Mi taglio la carotide Mi taglio la carotide Adesso vado Prendo un coltello Mi taglio la carotide Perché una roba del genere Non è possibile Bene Utilissima Questa parte Di video Davvero Se l'avete skippata Vi capisco Perfettamente Ora andiamo a cercare Gli allenatori Ragazzi E concludiamo L'episodio Perché no Faremo due episodi Nel prossimo Andremo ad affrontare Per l'ultima volta Il team rocket Non che ovviamente A consegnare Anche lo zaffiro A Clelio E a completare Una volta per tutte La quest Del set di pelago Ultimo canto Mannaggia a te Ti odio Perché gli ho fatto bora Non lo so Trovate una spiegazione Relazionale Nei commenti Perché io non ce l'ho Ok No aspetta Sono abbastanza convinto Che proseguano E la madonna Pure in due sono Ma voi dite che dentro Queste robe qua Ci sono gli allenatori Perché Cioè se devo essere sincero Io non mi ricordo So solo che ci sono Tipo degli scopri rovine In giro Però di allenatori All'interno Non lo so Cioè sono tipo Al di fuori Io non lo so Raga entro Io esploro Io esploro Senza motivo apparente Tra l'altro mi sa che In quest'isola qua Non sono entrato E in questa grotta qua Scusatemi Non sono entrato Sono preso a botta Il tipo fuori Ok perfetto Allora Qua abbiamo già visto tutto Andiamo da quest'altra parte Perché ovviamente Non è che finì E la madonna Quanti siete qua Tutti qua ragazzi Tutti accampati Che c'è stata Un'eruzione di un vulcano Siete dovuti venire A rifugiarvi Che è sta storia Col barcone proprio La swag bar Come direbbero dei famosi Cantautori italiani Anche in questo episodio Evidentemente Vengono fuori Le opere Della letteratura italiana Affrontiamo anche questo Gentiluomo Che ha un bellissimo Bellissimo volto Proprio dalla potenza Aulica Insomma Hitmonchan Perfetto Il pugile in gonnellina Uomo bomba Ti odio Muori Perfetto Olè Non lo so Ho perso per un attimo Il dono della parola Nel caso ve lo steste chiedendo No È finito il repellente Senza alcun motivo Qua non c'è nulla di particolare Dovrebbe esserci l'ultima isola Con l'ultimo allenato E la madonna Davvero Io non ricordavo Che fosse tipo così rialzata Vabbè Ottimo Ci sta Ci sta Mi è piaciuto Terremoto No Maniere forti Le maniere forti Sono le mie Che ti ammazzo di botte Sul serio Bora Vai giù Sì No No Dragodanza Questo qua Se è più veloce Mi picchia Ecco Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha Mi ha sputato Praticamente Ok State diventando Decisamente Troppo infami Io ve lo dico Mandiamo cosmo Ragazzi Mega assorbimento Adesso io ti secco Con un taglio No Niente da fare Niente da fare Oggi non me ne va Giusta una È da questa mattina Che la giornata Fa schifo Ok Perfetto Siamo alla sala Boh Sta di fatto ragazzi Che abbiamo finito Anche quest'isola Ora Noi andremo Useremo volo Andremo verso Quint'isola E ci prepareremo Per entrare nel rifugio Del team rocket Che andremo ad affrontare Nel prossimo episodio Non so sinceramente Se riuscirò a farvi trovare Qualche pokemon Allenato per Allora Anzi Dubito fortemente Intanto vado a depositare Charlix Che è morto malissimo Ne metterò qualcuno In squadra In ogni caso Ma staremo a vedere Insomma Probabilmente metterò In squadra Zapdos A sto punto Lo allenerò Di qualche livello E poi vi farò sapere Comunque ragazzi Allora Andiamo verso Quint'isola E chiudo lì Nel frattempo Vi invito a rispondere Fin da subito Alla domanda Del giorno E a lasciare un bel mi piace Per sostenere Queste battute finali Della serie Io spero che il video Vi sia piaciuto Se è così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate dai social Che saranno in descrizione E come ho già detto prima Rispondete alla domanda del giorno Che sarà come al solito Nella sidebar Nel due giorni Ci becchiamo In un prossimo Video